buongiorno a tutti eccoci qua benvenuti al webinar dal titolo metodi pagamento elettronici nuovi scenari per consumatori aziende e intermediari oggi l'8 marzo un augurio a tutte le donne che dovessero seguire il webinar procediamo subito con dare un'occhiata appunto ai suggerimenti che diamo sempre per gestire meglio e fruire meglio diciamo delle informazioni che darò allora avete la possibilità in alto a sinistra dove vedete il mio viso che parla di mettere in pausa il video qualora diciamo la vostra connessione non dovesse non dovesse essere ottimale e continuare a sentire l'audio e magari poter comunque visionare le slide che io scorro sulle quali magari poi vado a indicare con una freccia gli argomenti che mi interessano e che vi voglio raccontare terzo suggerimento è quello di nel caso in cui vi dovesse mancare la connessione per qualsiasi motivo dovesse dovesse uscire diciamo dall'ambiente di fruizione delle webinar semplicemente di ricollegarvi all'indirizzo al link che avete utilizzato per connettervi la prima volta di inserire il username e password potete continuare a vedere il webinar da lì non proprio da lì dove l'avete interrotto perché qualcosina magari nel frattempo è stata detta però non vi preoccupate perché tanto comunque il webinar è fruibile anche indifferita quindi potete poi rivederlo nella stessa sezione quindi nello stesso link che avete utilizzato per accedere alla webinar in diretta potete vedere il webinar registrato quindi nessun problema ecco il terzo suggerimento invece è quello di utilizzare lo spazio che avete a sinistra che è di fatto è una chat che vi permette di interagire con me ponendomi domande vi invito a porre domande durante tutto il webinar chiaramente immaginate che devo gestire almeno 3 4 monitor contemporaneamente quindi probabilmente ci sarà un momento che dedicherò alla lettura delle vostre domande quindi sentitevi liberi di fare domande durante tutto il webinar dedicherò probabilmente la fine del nostro incontro per dare le risposte alle vostre questioni bene il tema quindi l'abbiamo già esplicitato nel titolo oggi tratterò cercherò insomma di raccontarvi in modo più o meno approfondito perché come sempre succede io non ho la contezza della vostra fondamentalmente della vostra preparazione non è notte perché sicuramente il pubblico che sta intervenendo in questo momento è vario eterogeneo per cui io cercherò di partire da alcune basi quindi argomenti che possono essere anche molto semplici e introduttivi e poi arrivare a qualcosa anche di più complesso per cui vedete ho diviso in tre macro sezioni l'incontro quindi prima di tutto cercheremo di capire cosa si tratta quando paghiamo di quando parliamo di pagamento elettronico vedremo le tecnologie per i pagamenti ce ne sono un'infinità di tecnologie possibili per poter effettuare pagamenti elettronici vedremo quelle che attualmente stanno diciamo hanno il trend cavalcano il trend più attuale no e soprattutto anche vi posso raccontare la mia esperienza quelle che io ho adottato e perché ho adottato queste tecnologie e come mi trovo quindi alla fine infatti arriviamo sulla alla demopratica cioè a dimostrarvi alcuni strumenti prima della demopratica parlerò anche di scenari futuri cioè presenti ma futuri ovvero della blockchain che è un protocollo interessantissimo per tutto quello che riguarda la tracciabilità delle transazioni e dei contratti fondamentalmente anche quando io faccio un pagamento di fatto io sto mettendo in atto un contratto e dalla blockchain il suo figlio prediletto ovvero bitcoin che è una valuta una moneta a sé stante che permette di ottenere diversi vantaggi e ve ne ve ne darò contezza alla fine bene allora partiamo subito da un presupposto che è ancora da verificare nel senso che se voi prendete mano prendete in mano la stampa specializzata il suo 24 ore e comunque la stampa che riguarda la finanza voi troverete andate magari a fare una ricerca online troverete sicuramente titoli altisonanti che dicono dal 2017 a pagamenti elettronici obbligatori per la pubblica amministrazione ecco c'è stato un iter di rinvii di scadenze perché la prima scadenza doveva essere il 31 12 2015 poi è stata prorogata 31 12 2016 attualmente non c'è data ancora con chiarezza una scadenza e cosa significhi questa obbligatorietà è vero è che si sta facendo molto o quantomeno l'agit cioè l'agenzia per per l'italia digitale sta facendo molto per spingere fare in modo che la pubblica amministrazione dia la possibilità di effettuare il pagamento online ma non solo una volta data la possibilità di effettuare il pagamento online sia obbligatorio farlo per tre semplici motivi fondamentalmente che qui vi elenco innanzitutto il pagamento elettronico digitale permette una tracciabilità migliore rispetto a quella che riguarda invece che permette il pagamento tramite valuta contante e questo è molto importante e le motivazioni sono facilmente deducibili anche perché voglio dire dalla corruzione al traffico illecito di denaro cioè sono n motivazioni che ovviamente implicano il fatto che la tracciabilità è importante il risparmio perché l'agit indica un risparmio di addirittura di 10 euro medio per transazione e considerando che ci sono 100 milioni di transazioni di operazioni all'anno capite bene che il risparmio per quanto riguarda la pubblica amministrazione potrebbe essere veramente interessante allora cosa dobbiamo fare quando cerchiamo quando desideriamo pagare in modo digitale la pubblica amministrazione dobbiamo cercare questo logo che è il logo appunto che ha pensato agid per il progetto pago pa ovvero il logo che identifica il fatto che quella pubblica amministrazione lì è compatibile con almeno tre metodologie di pagamento che significa che il pagamento digitale può venire uno sul portale della pubblica amministrazione quindi voi dovete pagare il ticket sanitario benissimo accedete al portale verosimilmente dalla vostra regione con tutti i servizi digitali per poter pagare il ticket sanitario e li avrete integrato all'interno della portale la possibilità di fare il pagamento del ticket oppure secondo punto pagamento della pubblica amministrazione tramite il servizio direttamente fornito da quello che viene chiamato il 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 psp cioè il prestatore di servizio di e di pagamento che tipicamente potrebbe essere una banca invito poi ad andare a trovare tutte le informazioni necessarie sul sito dell'agid basta scrivere su google pago pa agid e troverete l'elenco addirittura di tutti questi prestatori di servizio tipicamente sono banche e quindi significa che magari se c'è la vostra banca di riferimento probabilmente all'interno del vostro e commerce anzi all'interno del vostro home banking e commerce arriva dopo all'interno del vostro home banking cioè della possibilità di accedere online al vostro conto corrente fare operazioni ci sarà anche la voce pago pia e quindi potrete pagare direttamente dal vostro conto corrente online i servizi terzo punto è un servizio digitale barra fisico cioè si prevede il fatto di poter accompagnare per mano la popolazione al pagamento digitale quindi di istituire dei punti proprio di contatto di incontro con un operatore fisico che possono essere se la vostra banca appunto è il vostro è uno dei 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 psp registrati probabilmente metterà a disposizione un punto informativo dove troverete un un operatore che farà il pagamento per voi vi aiuterà magari nel pagamento tramite banco motocarta di credito che appunto sono uno degli strumenti per il pagamento digitale elettronico che vedremo a breve bene ma cosa intendiamo per pagamento elettronico allora il trasferimento di denaro è il trasferimento diciamo di valuta avviene tradizionalmente in un modo ovvero io brevi mano cedo le banconote o le monete che ho a disposizione in questo momento io ho trasferito il denaro e va da sé che nel momento in cui le banche iniziano ad avere molta più valuta registrata digitalmente rispetto a quella registrata con con quantitativo di denaro fisico e questo addirittura ho esperienza diretta di amici che lavorano non solo in banca ma anche consulenti finanziari che mi dicono appunto che oggi il quantitativo di moneta contante con il mantenuto delle banche è è proprio minimo perché già le banche tra di loro ovviamente transano digitalmente quindi con dei dati che vengono trasferiti via cavo in un modo o nell'altro no quindi tramite internet oppure tramite connessione dedicata quindi per pagamento elettronico intendiamo proprio questo trasferimento di denaro immateriale ok quindi iniziamo utilizzare questo termine perché ci fa già capire che è un qualcosa che è concreto ma è immateriale è un po spesso mi trovo anche a utilizzare a stimolare a utilizzare questo termine chi dice la vita sui social network è virtuale non è virtuale è reale è semplicemente immateriale le relazioni sono di tipo immateriale ma sono relazioni vere perché poi portano a conseguenza anche poi nella vita materiale no ecco qui abituiamoci a pensare allo stesso modo è denaro solo che è denaro immateriale intangibile che però esiste e c'è un mente che si si occupa di garantire il fatto che lo scambio di denaro sia coerente e che per esempio sia univoco cioè che io non possa con l'accesso quantitativo di denaro scambiarlo due volte quindi di fatto a raddoppiare quantità di quantitativo di denaro che ho a disposizione quindi vedete adesso inizio a utilizzare la mia freccina verde vedete che introduco subito un concetto base che è quello che accompagnerà poi il nostro percorso alla scoperta dei pagamenti digitali ovvero che inizialmente il pagamento tramite sistemi elettronici chiaramente utilizzo in modo diciamo simile sia il termine elettronico che il termine digitale digitale è il contenuto che viene trasmesso elettronico è lo strumento che di fatto mi serve per trasmettere il contenuto digitale quindi tradizionalmente da quando siamo passati al cartaceo ai macro movimenti digitali i pagamenti sono sempre stati garantiti da un sistema centralizzato ovvero lo vediamo qua sotto dal modello che vi propongo cioè da banche che tra di loro si scambiano effettivamente la valuta io poi col mio terminale mobile che possa essere il mio smartphone il mio device il mio il mio computer quando faccio un'operazione e voglio pagare il signor mario semplicemente mi collego alla banca via telematicamente e quindi questo flusso vedete che l'ho indicato con la i perché è un flusso di informazioni io trasmetto leggo le informazioni che mi permettono di sapere quanto denaro a disposizione e trasmetto l'informazione che fa sì che la banca a questo punto trasmette al denaro telematicamente sì ad un altro ad un'altra banca quindi ho dei sistemi dei sistemi che fanno parte appunto del del mega sistema centralizzato che fra del loro colloquino e mi garantiscono che l'univocità della transazione ovviamente poi mario cosa farà riceverà la notifica sul proprio smartphone e verificherà che il contattativo di denaro è stato ricevuto questo quindi è il sistema centralizzato che si differenzia dal sistema peer to peer è un termine che io ricordo di aver sentito la prima volta quando ero un po più giovane all'università e nasceva nexter che era quel sistema di condivisione di file di musica fondamentalmente perché hanno appena nati gli mp3 peer to peer sta da pari a pari cioè significa che io sto condividendo sto trasferendo dell'informazione un bene un servizio da pari a pari senza passare per un sistema centralizzato che verifica che fa da garante ecco questo è il termine che mi aiuta nel spiegare meglio il valore cioè il sistema centralizzato garantisce la transazione io invece voglio avere un sistema peer to peer che sia autonomo e che sia svincolato dal garante ma a chi a sua volta però garantisca a me come soggetto operante della bontà diciamo dell'operazione ok quindi questo è quello che avviene cioè denaro che passa da un device all'altro che di fatto è contenuto fisicamente nel device cioè quando io faccio una transazione peer to peer di fatto il denaro che io possiedo è registrato fisicamente nel mio device perdo device perdo il denaro questo è il concetto del peer to peer puro che è moneta elettronica pure che viene spostata da un device all'altro però c'è un però cosa significa il però è questo che il peer to peer reale è quello che di fatto come vi stavo raccontando vede coinvolti dei singoli device che possono essere anche delle carte con chip all'interno del quale viene mantenuta l'informazione digitale quindi chip è elettronico ecco che stiamo parlando quindi moneta elettronica perché è un chip elettronico che mantiene delle informazioni allora io qui posso avere caricato questa mia scheda con 10 euro nel momento in cui sposto 5 euro a un interlocutore a questo punto all'interno del chip ho meno denaro perché appunto ho una registrazione digitale del fatto che esiste meno denaro questo è il peer to peer reale il peer to peer virtuale invece è quello che comunque si affida a a un sistema a sua volta che non è un sistema vero proprio centralizzato ma è un sistema ausiliario ovvero io faccio un passaggio di denaro voglio fare un passaggio di denaro dal mio smartphone cioè utilizzando il mio smartphone quindi da uno mio conto presente sul mio smartphone ma smartphone allo smartphone del mio interlocutore in questo momento però cosa avviene in realtà in realtà che sto dicendo al cloud ovvero a un'applicazione che se ne sta in internet quindi se ne sta in qualche server in giro per il mondo dicendo guarda che io sto trasferendo il denaro dal mio conto corrente al conto corrente dell'interlocutore entrambi i due interlocutori devono ovviamente accedere allo stesso cloud quindi devono accedere allo stesso tipo di servizio e vedremo che proprio questo il problema attuale vedremo subito una serie di servizi interessantissimi che permettono all'utente di trasferire denaro magari anche a spese zero oppure con commissioni molto basse con un altro interlocutore il problema è che sono attualmente poco diffusi ce ne sono diversi l'italia è un po proprio in questi casi si dimostra il paese dei mille campanili quindi ci sono tanti progetti che paralleli molto simili e quindi con difficoltà ad affermare uno rispetto all'altro poi probabilmente la storia a fare in modo che uno abbia ragione magari su tutti a differenza prima del caso cinese poi vi racconterò cosa sta avendo in cina laddove c'è un vero insomma almeno un paio di player importanti ma che di fatto hanno già monopolizzato l'intera massa dei consumatori in quel caso il l'efficienza c'è e gli utenti lo utilizzano molto molto volentieri e con certa frequenza perché se poi io trovo un interlocutore che è sempre a disposizione che ha è in linea diciamo con lo strumento che utilizzo io assolutamente sono portato ad utilizzare quello strumento quindi vediamo subito una serie di strumenti e di servizi dai più famosi ai più nuovi e meno famosi allora non possono citare paypal che quel servizio nato nel 1999 barra 2000 perché poi nasce dall'unione di una serie di visionari imprenditori tra cui anche ilon musk che è l'imprenditore che adesso ha che a capo della tesla azienda produttrice di auto elettriche iper computerizzate con intelligenza artificiale tale per cui a breve arriveranno a un livello di guida autonoma di livello 5 e anche il titolare della lui fondatore ceo anche della space x che è un'azienda che manda in orbita razzi a basso costo sta facendo viaggi per la nasa e via dicendo che farà addirittura nel 2018 invieranno i primi due turisti spaziali su intorno alla luna quindi veramente un visionario una specie di di nuovo di nuovo steve jobs bene lui alla porta degli anni 2000 fu uno degli inventori dei fautori appunto di paypal cosa è paypal è uno strumento che mi permette fondamentalmente che che mi fa da garante cioè non a caso il pay off è sei in una botta di ferro perché perché la paura poi vedremo anche quali scuole quali sono i problemi di sicurezza di utilizzare per esempio carta di credito quindi la paura dell'utente di utilizzare la carta di credito se poi io vado a fare quell'acquisto su quel determinato sito di cui non mi fido però effettivamente ho visto che c'è un prodotto che mi interessa e faccio un pagamento con la carta di credito questi hanno i miei dati della carta di credito poi magari possono possono vendere la mia carta di credito in un circuito magari nel deep web quindi quel circuito nero per cui la mia carta di credito finisce in mano a criminali che poi ne fanno l'uso che ne fanno per cui cosa dice paypal guarda io pal tra le altre cose in inglese appunto è l'amico fidato no quindi sono il tuo amico fidato per i pagamenti sappi che io mi metto in mezzo tra l'esercente colui che ti offre bene il servizio e tu che sei l'acquirente e ti garantisco quindi tu all'interno del di paypal registi la tua carta di credito tutti i tuoi sistemi di pagamento e poi i pagamenti li fai tramite me io ti garantisco che non perderai mai se mai dovesse avvenire che il pagamento viene verso qualcuno con qualche interlocutore poco serio io ti garantisco la restituzione del denaro poi in realtà la verifica che fa paypal è a monte cioè paypal non non prende accordi con chi di fatto non è un utente verificato io stesso che ho realizzato anche dei siti e ho inserito pagamenti con paypal c'è un percorso diciamo di verifica minimo e che permette insomma di sapere con chi con chi è che fare e cosa permette di fare paypal pagare online quindi sicuramente è lo strumento principe per i pagamenti sui siti di e-commerce ma di fatto paypal ha subito capì all'epoca che poteva essere uno strumento interessante anche per scambiare denaro tra utente utente quindi peer to peer person to person ecco qui viene utilizzato questo termine cioè peer to peer che è un scambio alla pari a livello software informatico viene tradotto in person to peer da persona a persona anche qui senza passare per un intermediario ma in realtà sto passando per il cloud cioè sto passando per un servizio che sta in internet e che è paypal ok non passo per la banca ma passo per paypal quali altri strumenti nascono vediamo subito cosa viene in italia perché il caso che è la cosa che ci può interessare più direttamente in italia nascono anche delle start up sono nate nel breve periodo che si propongono appunto di permettere questi pagamenti peer to person to person in maniera molto semplice cito satis pay che quindi è una azienda privata start up appoggiata poi dal circuito bcc perché io per esempio ho visto spesso la pubblicità di questo servizio sul loan banking della della bcc la banca di credito cooperativo di cui sono cliente e come funziona semplicemente l'utente scarica l'app installa l'app si registra anche qui i metodi di registrazione cercano di essere molto semplificati vedrete poi che il servizio che sto utilizzando io addirittura ti permette di registrarti in mezz'ora grazie a loro dicono un selfie no per utilizzare una parola un po infazionata e giovane in realtà a una scannerizzazione della tua carta di identità cioè fai una foto con lo smartphone fronte retro mandi via la carta di identità verificano il fatto che tu sia titolare dell'utenza telefonica sono una serie di veritiche che oggi digitalmente si fanno in poco tempo e dopo di che sei registrato e poi già inizierà ad operare come si caricano questi spazi perché di fatto io dico va bene ok ciò mi scarico satis pay mi scarico vediamo subito un altro to pay che è un'altra app sempre realizzata da una startup quindi parliamo di privati e non non soggetti istituzionali come vedremo subito perché poi anche le banche si sono inserite subito all'interno di questo circuito e quindi ok io mi scarico l'app la installo per il mio il mio account poi come carico fisicamente i soldi all'interno del mio del mio del mio smart in realtà non mi carico internamente mi appoggio sempre al cloud cioè devo utilizzare un altro strumento di pagamento come una carta di credito oppure effettuare un bonifico perché perché questi strumenti mi permettono di avere già subito un iban c'è un codice identificativo del mio conto corrente ed è un codice europeo no che vi permette di fare delle bonifici a livello europeo in modo molto semplice di fatti tutti gli iban a livello nazionale nostro se vivano italiani iniziano con la it che è proprio il codice del nostro paese o un iban quindi un conto corrente quindi pago per esempio il bolo del conto corrente no nel senso che sia un iban ma in realtà quello è un solo un semplice conto corrente d'appoggio quindi grazie appunto a una normativa che è stata atta appunto a semplificare questo genere di attività quel tipo di conto corrente non richiede pagamento del bollo quindi io posso installarmi to pay mi viene assegnato nel momento in cui mi registro un nuovo iban non pago niente finché io non faccio operazioni in realtà sotto un certo livello di operazioni non pago proprio e anzi è proprio lì la concorrenza tra questi nuovi operatori ognuno di loro propone dei pacchetti particolari che spesso magari sono anche difficilmente confrontabili fra di loro po come le tariffe telefoniche no cioè ce l'hai la convenienza dopo l'unici di sera piuttosto che sabato e domenica cercano di fornire delle diverse configurazioni e che sono difficilmente verificabili l'una con l'altra chiaro che il consiglio che vi do è quello poi dopo di leggere con attenzione le offerte di in uno di questi questi servizi e scegliere quello che è più consono alle vostre esigenze perché poi ognuno di noi è un soggetto singolo e ha magari delle dinamiche di vita diverse quindi per cui la base comunque che accomuna tutti questi strumenti è il fatto di poter caricare nel cloud una determinata cifra anche con il vantaggio di avere un piccolo gruzzoletto che che se mai dovesse cadere in mano a possibili hacker al limite perdo solo quello no capite quindi non questi questi sistemi non sono direttamente collegati al conto corrente devo io fare delle operazioni per poter caricare i soldi dal mio conto corrente a questo conto corrente d'appoggio poi il passaggio di denaro tra un dispositivo e l'altro ammesso e concesso che entrambi abbiano lo stesso servizio è immediato per cui veramente in due secondi nel momento in cui io addirittura mi pare che tu pay in modo molto simpatico permetta di fare la transazione con uno swipe cioè no c'è questo gesto classico sul display del cellulare quasi inviando fisicamente il denaro al proprio interlocutore quindi abbiamo visto il sistema abbiamo visto satispe, abbiamo visto tu pay entrano subito anche le banche o quantomeno i grossi enti istituzionali in questo caso questo GFI o GFI come meglio si voglia pronunciare è stato realizzato dalla SIA che è la società interbancaria per l'automazione cioè sono quelli che nel 1983 hanno lanciato il Bancomat e sono quelli che poi nel 1987 hanno introdotti hanno introdotto i pagamenti tramite i POS cioè i PON quelli che vengono l'acronimo sta per point of sale e sono quegli apparecchietti che troviamo praticamente dappertutto neanche da giornalaio che ci permettono di pagare fortunatamente grazie tramite dei dispositivi elettronici perché ognuna delle carte che prenderemo in considerazione adesso sono dotate di chip e quindi sono dotate di elettronica benissimo l'ultimo strumento di cui voglio parlare è questo uno di appunto tutti questi servizi sono nati più o meno in concomitanza quindi questo si chiama Hype ed è il sistema realizzato da Banca Sella anche Banca Sella ha fatto la storia dei pagamenti in Italia se non altro perché è stata la prima a permettere di a fare ad appoggio per i pagamenti nei siti di e-commerce quindi il negozietto il punto di vendita fisico in Italia che voleva anche sbarcare in internet voleva iniziare a vendere online aveva bisogno ovviamente di farsi pagare con carta di credito ha trovato fin da subito Banca Sella che metteva a disposizione questo servizio proprio di transazione del denaro inserisci il numero da carta di credito tutti i vari codici di verifica della carta di credito l'importo e Banca Sella poi si occupava di transare il denaro dall'istituto bancario di chi doveva pagare all'istituto bancario di chi deve poi ricevere il denaro Hype è fatta molto bene a mio avviso come app poi vedremo nella demo finale quindi finito la parte di slide vi dimostrerò proprio in pratica come funziona questa app ovviamente mantiene la possibilità di fare i pagamenti person to person la cosa interessante è che permette anche di pagare direttamente i negozi i negozi che dovessero attivare Hype ora anche gli altri sistemi mettono a disposizione questa facilitazione ma la cosa interessante di Hype è che Banca Sella è che è il circuito è uno dei più grossi circuiti di post distribuiti in giro per Italia perché Banca Sella è anche distributore di post che tipicamente sono post marchiati in genico quindi quando voi vedete il giro del bar proprio perché appunto il supermercato il post in genico dietro c'è Banca Sella perché viene utilizzata spesso Banca Sella perché ha delle tariffe adeguate insomma giuste per il tipo di transazione e quindi succede che la speranza è che essendoci già tutto questo installato di post grazie a Banca Sella ci sia subito poi la possibilità da parte di utenti di fare i pagamenti poi vi farò vedere molto semplice entro nel negozio utilizzo la app inserisco il quantitativo di denaro che mi suggerisce l'esercente invio il pagamento e immediatamente dal post viene stampato lo scontrino quindi diciamo che è una sorta di dematerializzazione della carta di credito che già è un supporto digitale a questo punto lo dematerializzo perché io all'interno di Hype ho effettivamente una vera e propria carta di credito anzi poi l'ho anche ricevuta poi vi farò vedere assieme ad altre carte proprio per dimostrarvi il funzionamento qui vi faccio vedere anche questa slide che indica come ci sia appunto la parte business ecco perché mi sono soffermato maggiormente su Hype perché Hype ha proprio questa sezione dedicata agli esercenti che possono entrare con un proprio account vedere addirittura quindi se c'è qualcuno di voi che sta seguendo il webinar dei esercenti cioè ha un punto vendita fornisce prodotti servizi e ha già un post in un attimo grazie al codice univoco del post gratuitamente può registrarsi sul sito di Hype for Business e avere tutte le statistiche del proprio post e addirittura avere e attivare la possibilità di essere visto dagli utenti che vogliono pagare con la app è più difficile a dirlo che a farlo vedere poi a spiegarlo che a dimostrarlo poi quando vi farò vedere la demo capirete immediatamente di cosa intendo quindi adesso vediamo un breve scorso di quelle che di cosa intendiamo come carte di pagamento anche per riprendere un attimino un po' il concetto perché spesso ci si può confondere tra carte prepagate, carte di credito e carte di debito vediamo un attimo di chiamare chiamare le cose col proprio nome allora le carte prepagate sono quelle carte che come vi dicevo si caricano con vari metodi quasi tutte hanno un IBAN di appoggio e come vi dicevo precedentemente questo IBAN non prevede il fatto che ci sia un conto corrente vero e proprio sul quale viene imposto un bollo per cui di fatto se non avete movimenti non avete alcun tipo di spesa e di costo ulteriore di solito è lì la loro concorrenza sotto una certa cifra di transato non avete addirittura commissioni oltre una certa cifra iniziano le commissioni ed è lì che dovete un po' fare le vostre scelte vedete qui c'è una foto che ne ritrae alcune c'è addirittura Paypal perché Paypal ha la sua carta prepagata c'è addirittura Italo più cioè praticamente questi qui forniscono servizio di viaggio in treno e gli fanno la carta sì tra le altre cose io per par condizioni vi faccio vedere anche quella stando ben attento di non far vedere il numero di carte in mondo visione perché questa è una vera e propria visa c'è anche quella delle frecce quindi la carta freccia che è la carta delle frecce di Trenitalia a sua volta è una carta di credito prepagata io la posso caricare con un bonifico verso l'Iban identificativo della carta e la posso utilizzare per fare i pagamenti laddove trovo un post perché dovrei utilizzare la carta di Trenitalia piuttosto che la carta di credito classica che fornisce la mia banca perché magari quando acquisto i biglietti con la carta fornita dal fornitore di servizio ho dei vantaggi che possono essere di accumulo maggiore di punti piuttosto che sconti e via dicendo loro ovviamente poi hanno dei vantaggi finanziari perché di fatto io sto caricando il denaro verso un loro collettore e immaginate bene che se anche ogni utente dovesse caricare quei 200 euro, 300 euro alla volta loro hanno a disposizione un quantitativo di denaro da investire e da far girare è abbastanza scontato chiamiamo carte di debito i Bancomat quindi carte ricaricabili sono carte nel quale io carico una certa cifra posso spendere quella cifra fino all'usaurimento della cifra caricata mi danno la garanzia del fatto che se anche dovessi perdere la carta chi la dovesse trovare può spendere al massimo la cifra contenuta per cui so che caricando quel minimo alla volta mi tutelo da qualsiasi tipo di grossa frode di denaro la carta di debito o Bancomat funziona semplicemente andando a tingere al nostro conto corrente per avere un Bancomat bisogna avere un conto corrente vero e proprio quindi pagando il volo, pagando il volo a questo punto cercherò l'offerta migliore della banca che mi possa fornire anche un conto corrente online fatto come si deve poi spesso è un problema di interfaccia utente che latita nel senso che ci sono alcune banche un po' vetuste che propongono delle interfacce di home banking poco poco chiare, poco fruibili mentre voglio dire che ce ne sono altre molto più smart in ogni caso ho il mio Bancomat collegato al mio conto corrente vedete che anche il Bancomat oggi ha a disposizione il suo chip nel cui interno vengono mantenuti in modo criptografato i dati che identificano il Bancomat mentre una volta il Bancomat aveva la banda magnetica che non teneva i dati in modo criptografato ma teneva i dati in chiaro quindi era facilmente clonabile cioè chiunque te la poteva prendere e passare in un lettore di codice di banda magnetica e aveva i dati ti ricreava il Bancomat ecco perché le frodi che riguardavano il Bancomat anni fa erano molto più elevate oggi Bancomat, carta di credo, qualsiasi tipo di carta anche la carta che io ve la faccio vedere questa qui che io utilizzo per spostarmi da Venezia è una carta ricaricabile a tutti gli effetti e mi permette di pagare appunto con uno sconto interessante la mobilità con i mezzi pubblici a Venezia anche questa ha un chip non c'è una banda magnetica ha un chip e quindi ha una certa sicurezza di non essere garantito una certa sicurezza in questo senso dalle carte di debito quindi carte che attingono direttamente alla montata del conto corrente che quindi fanno in modo che se io oggi faccio un pagamento col Bancomat oggi sul mio conto corrente troverò almeno in termini di valuta la detrazione del denaro che ho speso la carta di credito invece funziona come un Bancomat ma semplicemente sposta la debito di quanto ho speso in là nel tempo questo ha due vantaggi il primo è il tipo finanziario nel senso che se io faccio degli acquisti importanti con la carta di credito è ovvio che quel quantitativo di denaro lo mantengo nel mio conto corrente è ovvio che posso maturare interessi ovviamente continuando a mantenere quel denaro nel mio conto corrente e quindi immaginiamoci che io non so, abbia un plafond importante perché ovviamente poi interessi ha senso parlare di interessi quando gli importi spesi sono importanti ma se io dovessi chiederevo a spendere 10.000 euro al mese con carta di credito inizio a spendere giorno dopo giorno in realtà il quantitativo della somma della spesa totale mi viene adebitata il 10 del mese successivo quindi vuol dire che io in un'unica soluzione ho fatto uscire dal mio conto corrente i 10.000 euro ma li ho mantenuti per tutto il mese e tutto il mese mi hanno continuato a fornire interessi se io invece li avessi spesi man mano è chiaro che gli interessi sarebbero andati a scendere perché già verso la fine del mese magari trovandomi con già 8.000 euro di spesa avrei iniziato a maturare in minore interesse questo è uno dei vantaggi l'altro vantaggio interessante è che però avvenendo il pagamento avvenendo il pagamento avvenendo diciamo l'uscita di denaro in là nel tempo io ho anche il tempo di verificare e di intervenire se dovessi essere oggetto di frodi quindi nel caso in cui la mia carta di credito dovesse essere rubata, clonata ci dovesse essere un acquisto online e ne o poi io non dovesse avere notifica ovviamente posso assolutamente intervenire notificare la cosa dovessi perdere la carta di credito notificare al circuito carta di credito Mastercard oppure Visa che sia e loro intervengono e quindi non mi adebiteranno la cifra a fine mese poi ne parliamo di questa cosa che riguarda in particolare la sicurezza tecnologicamente queste carte proprio nell'ultimo periodo diciamo perché sta diventando fenomeno di massa proprio negli ultimi mesi si sono dotate di uno strumento che permette di effettuare il pagamento senza l'inserimento della carta di credito all'interno del lettore e questo sistema si chiama contactless cioè senza contatto velocemente le carte di credito o il banco o le carte anche la carta per viaggiare a Venezia che dovesse mostrare questo simbolo mi permettono di pagare semplicemente avvicinando la carta quindi prendiamo la mia Venetia card questa non ce l'ha so che però è dotata di contactless perché funziona così ma prendiamone una più ecco, prendiamo la nostra carta freccia vedete in questo caso il simbolino che se ne sta qua la webcam è esattamente il contrario di quello di nuovo eccolo lì indica il fatto che io avvicinando il chip al lettore proprio mi devo avvicinare e dopo è una questione importante questa da tenere in considerazione per motivi di sicurezza cioè devo essere a 2 mm massimo a questo punto avviene il pagamento ricevo un sms senza dover inserire la carta all'interno all'interno del lettore la tecnologia che viene utilizzata è la cosiddetta RFID che subito vi spiego velocemente perché è interessante capire come funziona la tecnologia per capire quali sono i limiti e anche quali sono i falsi miti perché si sta diffondendo uno certo psicosi delle carte contactless come se perché c'è stata anche delle trasmissioni televisive che ne hanno fatto un po' insomma l'informazione non è tutta corretta sul fatto che si possa clonare una carta contactless a distanza quindi la tecnologia RFID che subito vediamo permette di fare questo cioè di fare come viene segnalato qui fatto come dimostro nella foto vedete che tra le altre cose questo post ingienico io avvicino la mia carta e automaticamente viene prelevato viene letto fondamentalmente il codice dal chip della carta cioè il codice identificativo della carta e poi l'identificativo della carta che mi identifica come fosse la mia impronta digitale innesca tutta una serie di azioni perché poi dopo l'ammontare del denaro viene prelevato dal mio conto corrente non dalla carta in sé la carta in questo momento non è una carta ricaricabile non contiene le informazioni del denaro all'interno della carta sotto i 25 euro posso operare senza inserire senza che mi venga richiesto un PIN sopra i 25 euro anche appunto per ragioni di sicurezza mi viene richiesto un PIN quindi dire che le carte Contralex non sono sicure non è del tutto corretto perché ripeto sopra i 25 euro devo comunque inserire un PIN che è molto più vincolante rispetto per esempio alla firma che viene quella sigla che ci viene chiesta poi per la carta di credito e soprattutto c'è la possibilità di ricevere un SMS immediatamente appena io ho affettato il pagamento e l'SMS arriva comunque anche se spendo un euro voglio dire anche se spendo una cifra inferiore ai 25 euro quali sono le tecnologie che vengono utilizzate RFID che sta per Radio Frequency Identification è un sistema che permette a un dispositivo elettronico non dotato di alimentazione propria di interagire appunto elettronicamente e come funziona vedete qui vi propongo lo schema di un chip RFID è composto da un'antennina cioè questa parte che vedete in rame è un'antenna vera e propria è da un chip cioè l'intelligenza è questa qua centrale nel cui chip è inserito un solenoide cioè una spiralina in metallo che quando viene invasa da un campo elettromagnetico genera una corrente è il principio del solenoide il solenoide è in grado di generare corrente se viene invaso da un campo elettromagnetico e di generare un campo elettromagnetico se invece viene pilotato con una corrente ok? quindi cosa avviene? che lui riceve il campo elettromagnetico quindi io quando sto avvicinando la mia carta al lettore RFID il POS ingenico il POS ingenico emette un campo elettromagnetico questo attiva il chip il quale chip a questo punto attivo con la corrente è in grado di andare a leggere il codice identificativo criptografato che c'è all'interno della memoria e di rispondere con l'antenna che ha a disposizione quindi a questa volta lui emettendo un campo elettromagnetico rispondere verso il dispositivo è interessante perché guardate che questi chip possono essere inseriti anche in un chip come quello ottenuto sul palmo della mano qui che è grande poco più di un chicco di riso e vi garantisco che ci sono personaggi che io conosco personalmente che si sono inseriti questo chip sottopelle perché alla fine è l'unico modo per avere un contenitore magari di chiave criptografica con cui possono accedere al proprio borsellino bitcoin che vedremo dopo di cosa si tratta è l'unico modo ovviamente è l'unico modo più sicuro che esista perché anche le impronte digitali possono essere replicate anche voglio dire l'unicità della nostra retina può essere replicata mentre un chip di questo tipo metterlo sotto pelle ci danno proprio rapire e diciamo sottoporci a un'operazione chirurgica per prelevarcelo ok quindi applicazione simpatica dell'RFID l'applicazione che più spesso ultimamente viene messa in opera è quella dell'utilizzare l'RFID come etichetta attiva vedete qui c'è un etichetta sotto l'etichetta vediamo proprio l'antenna e vediamo il chip quindi significa che l'etichetta nella parte esterna racconta all'interlocutore umano i dati quindi con le scritte che sono legibili da una persona umana poi passo con il lettore e automaticamente invece ho i dati digitali senza ovviamente dover alimentare senza dover dotare di una batteria importantissimo questo il dispositivo diversamente invece avviene per l'NFC cioè Near Field Communication che è esattamente come l'RFID in termini di funzionamento solo che è dotato di alimentazione propria quindi può arrivare a una distanza in teoria potrebbe arrivare a una distanza superiore poi vedete in questo schema viene dimostrato come come in realtà l'NFC viene mantenuto in una distanza abbastanza limitata perché Near Field Communication cioè comunicazione in campo vicino quindi in realtà essendo dotato di alimentazione potrebbe andare ben oltre cioè emettere un'oltre elettromagnetica in grado di arrivare più distante ma viene mantenuto vicino proprio per motivi di sicurezza perché si intende che tutte tutte le comunicazioni NFC devono essere fatte in presenza dell'operatore cioè sono io che utilizzo il mio smartphone e mi avvicino verso il lettore non c'è un altro interlocutore a distanza che è in grado di rubarmi i dati del mio smartphone l'RFID in realtà potenzialmente può arrivare fino a 100 metri però le etichette e le carte di credito vengono dimensionate per fare in modo che non possa essere non possa raggiungere tali distanze il loro segnale vedete il confronto per esempio con altre tecnologie di comunicazione elettromagnetica per cui il bluetooth il 3G il WiMAX il Wi-Fi e via dicendo NFC è la tecnologia invece che viene utilizzata dagli smartphone perché ovviamente queste sono dotate di alimentazione propria di fatti questo mi introduce mi porta al successivo argomento che è pagamento con smartphone come si può effettivamente pagare con lo smartphone dematerializzando completamente la carta a questo punto perché devo avere 27 carte quando posso avere uno smartphone che in realtà può simularle tutte e in realtà così funziona allora il mio smartphone se è dotato di chip di tecnologia NFC può tranquillamente effettuare i pagamenti contactless senza alcun problema uno dei dei circuiti che si sta cercando appunto di affermarsi a livello mondiale per i pagamenti contactless e i pagamenti in generale è Apple Pay Apple Pay perché ovviamente i 3 player fondamentali adesso vi faccio vedere tutti e 3 Apple Pay Facebook Payments quindi sia Facebook e anche Google Wallet quindi 3 player più importanti per quanto riguarda la diffusione degli usi tecnologici a livello mondiale stanno cercando di imporsi con il loro sistema di pagamenti niente di diverso da Paypal per intenderci solo che ovviamente se Apple ti dà già l'ispositivo già le app native all'interno del sistema operativo negli iPhone che ti vende è tutto molto più semplice per te se gli esercienti iniziano ad adottare anche quel metodo di pagamento lì tu hai tutto lì e sei contento perché non devi andare a scaricare 20.000 app e questo è un po' il problema il fatto di dover magari gestire 4-5 app perché c'hai l'amico che è compatibile con Hype c'è quell'altro che è compatibile con Satis Pay quindi dovresti ogni volta fare un passaggio di questo tipo Apple Pay stanno arrivando vi cito questi 3 player piuttosto che parlarvi magari a lungo del player cinese che è Alipay cioè il metodo di pagamento cinese che è Alipay perché Alipay va fortissimo in Cina però probabilmente verosimilmente non saremo invasi a breve da quel metodo di pagamento anche perché in Cina ci sono due metodi Alipay e Tencent che sono Tencent è legato a WeChat che è una specie di Whatsapp però ibrida nel senso che sia un po' Whatsapp un po' Facebook un po' Twitter è un sistema con cui i cinesi di fatto si intrattengono molti è un sistema di intrattenimento per i cinesi quindi lì dentro hanno la possibilità di scambiarsi denaro esattamente come funziona con le app che vi ho citato prima dei casi italiani però là diciamo che il vantaggio è che hanno uniformato tutto con due grossi player per cui la massa critica di utenti che hanno quelle app è stata raggiunta da noi ancora non è arrivato Facebook Payments e quando arriverà sarà interessante soprattutto per chi fa pubblicità e sponsorizzate su Facebook perché poi potrà direttamente permettere di fare l'acquisto nell'immediato istante successivo alla visione della pubblicità e se avete mai acquistato su Amazon e se vi siete mai accorti di quanto Amazon cerchi di accorciare il tempo dalla visione del prodotto all'acquisto con il one click hanno proprio l'acquisto in one click perché lo dicono più click fai e più hai tempo di cambiare idea di arrivare fino a mettere il prodotto nel carrello e poi dire ma ci penserò domani poi domani ti si rompe il frigorifero e non compri magari quel prodotto perché hai un'altra spesa imminente ecco quindi l'idea di poter spendere il denaro che tu hai a disposizione nel successivo istante all'entusiasmo che nasce dall'aver visto quel prodotto e quel servizio è molto importante ecco perché Facebook e anche Google perché Google se Facebook ha tutto il suo marketplace anche Google e anche Apple hanno il loro marketplace perché Google ti vende comunque le proprie app in Google Play i propri servizi e via dicendo quindi ecco questi tre player ve li faccio vedere non sono ancora disponibili da noi però verosimilmente molto presto arriveranno quindi teniamoli d'occhio vediamo un attimo e chiariamo un paio di cose per quanto riguarda la sicurezza dei pagamenti elettronici allora la moneta elettronica è indubbiamente più sicura del contante perché permette una tracciabilità in tempo reale io sarà capitato a voi ma è capitato un po' tutti voglio dire durante la propria esperienza di vedersi svuotato il portafoglio di monete di banconote dalle stofanti che poi magari a me è anche capitato che poi hanno rimesso il portafoglio al suo posto per cui in quel caso la tracciabilità ovviamente non c'era se invece io sono abbastanza accorto da inserire l'opzione per cui da attivare l'opzione per cui il sistema mi avviso con un sms appena c'è per esempio avviene un pagamento io posso intercettare e intervenire immediatamente con la carta di credito chiamo il circuito di carta di credito con cui sono affiliato e dimostro cerco di dimostrare che quel pagamento non l'ho fatto io vi garantisco ho conosco diverse persone che lavorano nell'ambito del customer care e carta di credito il gestore di carta di credito crede almeno un paio di volte senza batter ciglio al al proprio cliente per cui il cliente viene prima di tutto poi è ovvio che se è un cliente che inizia a dimostrare una certa recidività in questo caso il gestore interviene e chiede spiegazioni più chiare ma generalmente se voi dimostrate magari anche che acquisto è effettuato in America voi eravate in Italia potete dimostrare immediatamente vi viene tornata la cifra anche perché loro hanno assicurazioni importanti che li proteggono da questo punto di vista chiaramente c'è da osservare che riferendoci poi alle carte contactless a quanto si dice sul fatto che allora ma se la carta contactless si avvicina ad un lettore e trasmette i propri dati se il malintenzionato arriva con questo lettore vicino alla mia carta contactless potrebbe leggere i dati sì è vero ma però ci sono almeno una serie di dieci ma da mettere uno in fila all'altro prima di tutto perché bisogna essere molto vicini alla carta secondariamente perché con quello che si riesce ad ottenere cioè uno smartphone che si è adottato di dispositivo NFC quindi in grado di leggere la carta con un software per leggere la carta riesco a leggere solo alcuni dati della carta per esempio della carta di carito non avrei quello che è il codice di verifica della carta di carito che mi serve per effettuare il pagamento online ok secondariamente bisogna stare molto molto fermi cioè la tecnologia è pensata per fare in modo che quando io appoggio la carta sul lettore la carta non deve assolutamente muoversi come la muovi difficilmente riesci a prelevare i dati quindi ecco diciamo che probabilmente è molto più facile come è già capitato a me subire il furto dell'intero portafoglio con magari all'interno la stessa carta di credit piuttosto che il furto dell'informazione digitale tramite chissà che sistema e chissà che accrocchio perfetto quindi mi sono accorto adesso che mancava perché siamo arrivati al secondo sondaggio ho saltato il primo ma intanto chiedo alla regia di supportarmi in questo e di mettere di mettere online il secondo il sondaggio attuale e quindi vi chiedo subito in punto vendita generalmente che metodo di pagamento usate più spesso cioè il contante il bancomat la carta di credito oppure la carta di credito e se il post attivo con il pagamento a contract chiedo di pagare così è giusto anche un po' per capire la vostra dinamica quotidiana in realtà poi un sondaggio che mi interessa è quello che arriverà dopo l'argomento che tratterò adesso ok oh bene bene allora so che ho oggi una platea di interlocutori che hanno una certa eterogeneità dal punto di vista della formazione quindi contante bancomat la carta di credito e c'è una piccola parte che usa che usa il contactless quindi più o meno è quello che mi aspettavo allora diciamo che il contactless è veramente quando iniziamo a prendere mano col contactless ci rendiamo conto che è pratico perché per esempio anche per micropagamenti il caffè la macchinetta del caffè che espone il simbolo quello che vi facevo vedere prima le 4-5 ondine elettromagnetiche significa che è un sistema compatibile con contactless io appoggio la mia carta e pago senza problemi mi arriva l'SMS ho traccia di tutto quello che ho acquistato è molto 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 pratico non serve neanche ovviamente in quel caso inserire il PIN ok per cui la sicurezza dei pagamenti concludendo il discorso della sicurezza dei pagamenti elettronici va di pari passo con le buone pratiche nel mantenere sicuro un proprio portafoglio piuttosto che il PIN del proprio bancomat messo in un posto diverso rispetto al banco ma quindi è solo questo il concetto da tenere a mente e poi il fatto che se utilizzo strumenti come Paypal per fare i pagamenti come vi dicevo all'inizio appunto del nostro intervento sono già molto tutelato da questo punto di vista quindi la mia carta di credito inserita in Paypal sicuramente è in un luogo sicuro poi uno diceva se un domani dovessero rompere l'accesso a Paypal e rubare le carte di credito in realtà Paypal anche quando voi ve lo farò vedere dopo entriamo nel mio account Paypal ma la mia carta di credito non si vede cioè è mantenuta comunque crittografata chiunque dovesse riuscire a entrare vede solo una parte della carta di credito e non tutto il numero così anche per quanto riguarda il conto corrente bene mi interessa adesso procedere con uno scenario che ritengo veramente importante perché è uno scenario che andrà a cambiare gli usi e i costumi e anche i modi di operare da qui al breve futuro allora per quanto riguarda le tecnologie esponenziali cioè tecnologie che aumentano le loro prestazioni con curve esponenziali ovvero gli smartphone che ogni due anni sono due volte più veloci i computer che hanno ovviamente subiscono lo stesso destino cioè ogni due anni raddoppiamo la propria velocità questo ovviamente comporta cosa comporta che basta seguire più che le cronache diciamo la cronaca della scienza cioè gli aggiornamenti sulle scoperte sui test sugli avanzamenti della tecnologia l'intelligenza artificiale è un elemento che sarà sicuramente dirompente nei prossimi 5-10 anni internet of things inteso come l'internet degli oggetti è un altro elemento che si connette all'intelligenza artificiale cioè assieme diciamo che fanno da cassa di risonanza ognuno di due fa da cassa di risonanza all'altro nella crescita del tipo di utilizzo il terzo tassello che ci metto non ce lo metto solo io insomma voglio dire mi sono ispirato a importanti pensatori e intellettuali del digitale è la blockchain cos'è la blockchain? blockchain adesso subito cerco di raccontarvi di spiegare in poche parole di cosa si tratta la blockchain di fatto è un database distribuito che sfrutta la tecnologia peer-to-peer neanche farò apposta vedete che la peer-to-peer cioè l'interazione tra pari disintermediando cioè cercando di slegarsi da un intermediatore è uno dei trend futuri quindi è un database distribuito che sfrutta la tecnologia peer-to-peer e che chiunque può prelevare dal web diventando così un nodo della rete come funziona la blockchain? immaginiamo di dover di avere di avere di avere un contratto un contratto che descriva una transazione allora io posso vendere la mia casa posso vendere la mia auto posso vendere qualsiasi oggetto è chiaro che il denaro che ricevo come controparte è già uno scambio di beni ma serve che sia scritto da qualche parte che io ho dato il tot bene e ho ricevuto il tot denaro poi scrive un bellissimo contratto poi va bene ho questo contratto chi lo gestisce entrambi gli interlocutori uno dei due potrebbe dire che falsificarlo falsificarne gli elementi benissimo allora prendiamo chiamiamo un sistema a garanzia e quindi ci inventiamo il sistema notarile per esempio dove i notai hanno questo ruolo di garanti del fatto che laddove ci sono beni importanti di un certo valore la transazione è stata fatta in modo corretto ma sappiate che ci sono diversi paesi nel mondo che sono dotati di sistema notarile ma che hanno un livello di corruzione così elevata tale per cui tu puoi essere anche in grado di comprarti una casa di avere la certificazione notaio e avere un contratto che certifica quella casa è tua e nel giro di dieci anni ti ritrovi invece un protesto perché c'è qualcuno che dice no guarda che in realtà il vero contratto ce l'ho io perché è stato certificato dall'altro notaio e chi ha ragione di due quindi vedete che il sistema centralizzato a garanzia non sempre effettivamente è garante non lo sono stati neanche le banche centrali quando ci sono stati i grossi crack finanziari ok quindi quello che ci stiamo immaginando oggi che abbiamo a disposizione la rete e abbiamo a disposizione la tecnologia digitale e la velocità di trasmissione dei dati ci immaginiamo praticamente un sistema distribuito da dove tutti sono garanti quindi immaginiamoci di avere questo che potrebbe essere il mio contratto e io ho venduto la penna a tizio e questo contratto dice che ho venduto la penna a tizio ma se io voglio fare in modo che quella transazione sia indistruttibile cioè possa essere mantenuta praticamente e a conoscenza e tutto il mondo fondamentalmente ne sia a conoscenza immaginiamo di prendere questo mio contratto di poterlo duplicare in tante copie di poterlo spezzettare in tanti piccoli pezzettini e di distribuire questi pezzettini quindi io ho sia duplicato in n copie perché con digitale lo posso fare senza costi voglio dire aggiuntivi ho duplicato migliaia di volte il mio contratto l'ho spezzettato in piccoli pezzettini l'ho distribuito in vari nodi ci ho dato un pezzettino del mio contratto a tutti i partecipanti della rete ovviamente tutti i computer che hanno a questo punto all'interno di loro stessi un pezzo del mio contratto ma non sanno di cosa si tratta ok quindi hanno un'informazione crittografata del contratto quando però io avrò bisogno di ricostruire il contratto con uno schiocco di dita chiedo di ricostruire l'informazione posso sempre andare poi a chiedere giustizia perché no guarda che il contratto vero e proprio c'è esiste ed è indistruttibile perché è indistruttibile come indistruttibile internet voi sapete che internet è fatta da una serie di nodi e se domani dovesse crollare voglio dire dovesse arrivare un governo tiranno in Francia e la Francia è uno degli stati attraverso la quale passano importanti dorsali di connessione internet cioè cavi che trasmettono dati domani la Francia dovesse chiudere tutte le sue connessioni non vi preoccupate che un dato dall'Italia all'America ci arriva lo stesso perché trova un'altra strada quindi quello è il principio di internet è impossibile da spegnere ecco quindi la blockchain immaginiamocelo così come un database impossibile da spegnere perché è talmente distribuito che se io anche chiudo e cancello tutte le informazioni che magari sono presenti nei computer in Nord Corea però ho tutte le altre informazioni che sono ridondanti possono essere ricostruite per creare l'informazione base questa è la blockchain è un principio di funzionamento secondo me geniale perché è in grado ripeto di disintermediare ed è applicabile a qualsiasi tipo di transazione qui facciamo faccio proprio vedere l'esempio di come Alice che vuole magari dare dei soldi a Ben cosa fa utilizzando il sistema blockchain fa in modo che venga creato e utilizza un software fondamentalmente dice io voglio spodire dei soldi da me a Ben bene il sistema crea un primo dove è andata la mia freccina qua un primo blocco il quale blocco viene distribuito vedete a tutti gli attori della blockchain cosa significa che io voglio far parte della blockchain semplicemente abilito il mio computer a farla non è che io come operatore devo stare lì a verificare è ovvio cioè è un software che installo sul mio computer che fa questa verifica diciamo del dato quando poi tutti i partecipanti hanno verificato il dato quindi se lo sono inglobato fra di loro fondamentalmente all'interno dei loro sistemi questo blocco viene messo in pila su tutta la catena di informazioni ecco perché blockchain è una catena di blocchi e a questo punto la transazione viene validata questo è utile per tutti i tipi di rapporto peer to peer immaginiamoci i contratti cioè come vi dicevo prima facciamo meno dei notari fondamentalmente perché i contratti tra soggetti pubblici e privati quelli che vengono definiti gli smart contract che sono talmente auto verificati che poi possono anche innescare delle azioni cioè noi immaginiamoci un contratto che che per esempio che descriva il fatto che quando si verificano quelle condizioni top soldi devono essere assegnati a me perché il contratto perché l'accordo con l'interlocutore era che se si verificava quella situazione immediatamente lui doveva pagare quella top cifra bene rendiamo tutto automatizzato perché c'è lo smart contract che ha automaticamente verificato dalla blockchain quando quella condizione si verifica i soldi mi arrivano e non c'è modo che l'interlocutore possa protestare perché avevamo d'accordo così e lo dice lo smart contract no? tracciabilità dei beni allora io ho un diamante oggi posso assicurarlo per esempio con una compagnia di assicurazioni poi il diamante sparisce qualcuno me lo ruba ma sono io che ho fatto in modo di farmelo rubare mi faccio pagare della compagnia di assicurazioni fra un mese ricompare il diamante e lo assicuro con un'altra compagnia di assicurazioni le due compagnie di assicurazioni non possono sapere attualmente che quel bene è stato due volte assicurato con la blockchain questo non avviene di fatti c'è un bellissimo progetto e ci sono una serie di start up che stanno seguendo la strada appunto dell'applicare la blockchain a nuove idee a nuovi progetti perché effettivamente è un uno strumento così potente da permettere appunto questi nuovi scenari quindi start up che dice benissimo bene di valore noi li registriamo con metodo blockchain e quindi a questo punto tutte le assicurazioni sanno che quel bene è già stato assicurato una volta per cui se sparisce ed è stato rubato tu denunci il furto ma non può ricomparire magicamente l'ultimo 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 diciamo ma non ultimo perché poi in realtà è stata la prima applicazione di cui vi parlo è bitcoin ovvero criptomoneta cioè abbiamo detto che la blockchain è utile per certificare in modo univoco e distribuito le transazioni beh la moneta stessa prende e acquisisce il suo valore dal numero di transazioni e dal tipo di transazioni fino adesso ci sono state le banche centrali che hanno dato certezza del fatto che l'euro è scambiato a tot con il dollaro quindi a valore di tot ok ma bitcoin è in grado di fare a meno delle banche centrali perché è in grado di fare a meno di un conto corrente cioè tutto si autoregola a seconda delle transazioni e dei soldi che vengono trasmessi da un utente all'altro peer to peer un peer to peer reale in questo caso perché in realtà proprio il codice e le chiavi criptografiche che identificano quanti soldi io ho di disposizione sono presenti nel mio terminale poi vi faccio vedere l'app che io sto utilizzando e quindi questo vi permette di fare cosa? innanzitutto di essere slegati in un sistema bancario che non va mai male perché il consiglio che ovviamente do è quello di diversificare non è che di trasferire i propri beni in bitcoin però un certo quantitativo di bitcoin è interessante perché voglio dire le banche possono chiudere i governi possono decidere di prelevare nottetempo tot quantitativo di denaro dei conti corretti come è già avvenuto in passato voglio dire non serve andare in Armenia in Italia è successo per cui in questo modo io sono assolutamente slegato da un ente centralizzato e soprattutto bitcoin è uno strumento che permetterà che permetterà anche a popolazioni in via di sviluppo di poter crescere una propria economia magari popolazioni che inizialmente non possono permettersi i costi del conto corrente bancario col bollo mensile con tutti i costi di transazione e anche le transazioni sono a costo zero se non bassissimo cioè non spendiamo di certo l'euro e 50 per bonifico che invece ci chiedono le nostre banche in più c'è da altra cosa interessante è completamente anonimo cioè può essere completamente anonima la transizione bitcoin quindi è ovvio che poi dopo bitcoin è anche utilizzato per fini poco edificanti è ovvio ma anche un'auto voglio dire può essere utilizzata per investire un bambino oppure può essere utilizzata per portare mia moglie a partonire quindi voglio dire è sempre lo strumento è sempre l'utilizzo dello strumento che poi identifica la bontà o meno di quello che siete dell'azione quindi bitcoin dà la possibilità di essere anonimi e a me può andare bene perché io potrei magari decidere che certe cose che acquisto nella mia vita privata viaggi che faccio nella mia vita privata e cose che faccio nella mia vita privata voglio mantenere segrete perché devo per forza raccontare al mondo e perché devono essere tracciate e tracciabili quindi bitcoin permette proprio di fare questo quindi vi ho elencato tre elementi fondamentali l'ultimo e non ultimo guardate il grafico la crescita del bitcoin ultimamente rispetto ad altre monete è interessante se voi osservate che da da maggio 2016 voglio dire ad oggi oggi un bitcoin vale 1145 euro guardate i quadri uno due tre quattro diciamo che è quasi quadruplicato il valore da maggio 2016 io che ho investito ma perché sempre per motivi didattici e dimostrativi a dicembre di 2016 un centinaia di euro adesso mi trovo sul mio piccolo wallet 150 euro poi ve lo faccio vedere e quindi tutto sommato è una moneta molto dinamica e come investire in borsa vuol dire investire in bitcoin questo è da tenere cioè investire in borsa in azioni che sono molto dinamiche poco sicure non è il fondo di investimento sicuro e diversificato è un fondo è un investimento a rischio ma come un fondo di investimento a rischio mi può dare grossi guadagni mi può dare grossi guadagni mi può dare grossi guadagni fare di testa a me capire intuire informarmi leggeri trend in anticipo e capire se è il caso magari di investire in bitcoin per avere un guadagno importante nel breve tempo bene il terzo sondaggio il terzo sondaggio fermi dai il terzo sondaggio che poi mi porta alla demo chiedo proprio a voi curioso di capire cosa ne sapevate di bitcoin cioè conoscevate blockchain soprattutto perché è questo che mi interessa cioè blockchain che sta alla base di bitcoin e che permette come vi ho anticipato una serie di applicazioni veramente notevoli conosco blockchain bitcoin no sì ne avevo sentito parlare ma non ho mai attivato un borsellino bitcoin sì e ho anche un borsellino bitcoin vediamo che grado di smartitudine bene c'è chi anche si è già adoperato con ad attivare bitcoin molto bene ok allora passiamo a questo punto alla modalità demo vedo che sto suonando spero che siate ancora tutti lì e vi ho trovato un po' interessante la dinamica dell'intervento ah si condividi schermo bravissimo condividi schermo ok io ho a disposizione qua il mio smartphone con cui poi vi farò vedere in tempo reale alcune cose e ho a disposizione il browser allora ripercorrendo un po' quello che abbiamo visto prima volevo dimostrarvi come ci siano alcuni servizi lo faccio utilizzando un servizio della regione in cui vivo che mi ospita non so se voi che intervenite online probabilmente siete anche un po' da fuori regione questo è l'esempio del Friuli Venezia Giulia sistema realizzato da Dynseal l'azienda in house della regione Friuli Venezia Giulia che realizza il software ecco questa è una cosa che vi ho dimostrato non so se alcuni di voi hanno partecipato anche al webinar su Speed che ho tenuto lo scorso mese cioè sul sistema univoco di identificazione il sistema pubblico di identificazione univoca che permette appunto di collegarsi a vari servizi della pubblica amministrazione tra cui alcuni cioè tutti questi tutti questi proposti dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia tra questi troviamo scorrendo scorrendo sul punto pagamenti online vedete allora pagamenti online io ho pagamenti sanitari io potrei fare clicco sul sulla sulla fraccina se non mi importa pagamenti ticket sanitari ecco io ho due opzioni in questo caso qui è qui questo tipo di pagamento si appoggia sul nodo pago PA cioè su quello che è il protocollo messo in atto e coadjuvato appunto da Agid che permette appunto di effettuare il pagamento qui posso inserire il codice fiscale per esempio e il numero del pagamento o dell'appuntamento che posso aver già preso in ospedale per pagare il ticket in stile scopro di dati clicco paga prosegue e qui sceglierò uno dei metodi di pagamento vedete qua che vengono proposti carte di credito e anche post e pay che è la classica carta ricaricabile posso anche accedere a questa sezione con speed vedete posso entrare con il vecchio logging della della regione in frio e mezzo a giuglio oppure con speed qui sceglierò il mio facciamo un mini ripasso il mio provider di servizio io il mio personale l'ho registrato con info cert quindi cliccando su info cert accedo a a questa a questa maschera inserisco il mio username e la mia password di speed e poi dopo vengo ridirezionato nel back end del del sito della regione e vedrò tutti i i ticket sanitari che ho pagato e addirittura questo è un sistema automatizzato e ottimizzato per il calcolo automatico delle tasse quindi io poi quando ho la compilazione del mio delle tasse a giugno fondamentalmente accedendo al al sito dell'agenzia dell'entrata sempre con speed posso accedere alla sezione già precompilata del mio pagamento proseguiamo quindi a gambe elevate su bitcoin allora ho anche da dimostrarvi un attimino beh vi lo faccio vedere al volo allora al volissimo allora ok su sul sito bitcoin.org trovate tutte le informazioni che vi possono diciamo guidare verso una scelta consapevole intanto dello strumento da utilizzare per poter attivare il vostro borsellino bitcoin e poi anche dell'informazione interessante riguardo appunto a cos'è a che vantaggi da investire in questa fase in bitcoin è vero leggevo prima un messaggio di sfuggita c'è una dinamica tale dietro che sicuramente soprattutto anche per il conto riguardo i pagamenti anonimi sicuramente voglio dire potrebbe essere nascosta una bolla speculativa dietro bitcoin ma come lo è stato col crollo del dot com nei primi anni 2000 è ovvio dobbiamo sempre stare molto attenti su queste cose però conoscere un fenomeno non significa che magari in modo consapevole non si possa cavalcare per un certo periodo comunque vi ho assolutamente messo in guardia rispetto all'attenzione ad avere i fenomeni che sono molto molto dinamici come quello di bitcoin fenomeni inteso come variabilità di costo è ovvio che se io voglio gestire una piccola cifra per effettuare un pagamento e quindi desidero fare quel tipo di pagamento in modo anonimo la via che vi dimostro adesso è quella più semplice cioè innanzitutto informarsi scegliere un borsellino digitale opportuno ok per esempio quello che ho fatto io è di vediamo dove era la sezione qua dei borsellini dove l'hanno messa eccolo qua forse eccolo qua choose your wallet io ho scelto green address perché ognuno di questi servizi che possono essere mobile desktop oppure addirittura hardware che sono i più sicuri fondamentalmente perché sono dispositivi che io porto sempre con me nei quali posso siedere magari anche con impronta digitale diciamo che ognuno di questi servizi vengono elencati pregi e difetti quindi vi invito a leggere la descrizione dei vari servizi io ho scelto il servizio green address perché soprattutto per il mobile ecco vedete green address per il mobile ha smarcato in verde tutte queste opzioni cioè dice che le informazioni e le chiavi crittografiche sono esclusivamente mantenute all'interno del mio dispositivo quindi ovviamente sta a me mantenere il dispositivo in modo sicuro e evitare di perdere oppure il mio smartphone per esempio è protetto da pin è protetto da facilmente ci posso accedere con l'impronta digitale chiaramente però vi dimostrerò che attualmente io seppur vi dica e vi consigli di sperimentare con bitcoin non ho cifrone insomma quindi anche dovessero rubarmi lo smartphone non perdo chissà che cifra la cosa quindi interessante è di leggere le caratteristiche di questi servizi e vi consiglio di andare a scegliere quelli che smarcano in verde tutte queste tutte queste opzioni come si carica però poi un borsellino bitcoin allora adesso faccio un salto sullo smartphone passo alla modalità demo delle mie tre app che vorrei dimostrare oggi la prima è paypal ma giusto per farvi capire un po' ho visto insomma che avete una certa domestichezza con la tecnologia capendo da come avete risposto perché sicuramente con paypal ci avrete giocato più di qualche volta giusto per fare un ripasso per capire che paypal ecco qui vedrete anche dalla montare del denaro che tengo all'interno di una o dell'altra app capirete anche quanto io uso l'una o l'altra è ovvio che paypal è lo strumento che ho utilizzato in assoluto ovviamente per acquistare magari i biglietti del treno piuttosto che la cosa interessante che si può fare dall'app è inviare e ricevere denaro immediatamente per esempio qui io posso far accedere anche la mia app alla mia rubrica l'identificazione univoca avviene tramite l'email cioè l'email che ho utilizzato per registrare il mio account su paypal è il mio codice univoco diciamo di identificazione quindi andando a pescare nella mia rubrica paypal mi proporrebbe tutti gli utenti che sono presenti in paypal perché riesce a fare il match la verifica del mail qui in questo momento faccio comparire per motivi di privacy degli altri miei amici e conoscenti che ho in rubrica faccio comparire solo l'altro mio account che ho su paypal che uso per fare acquisti in america perché è anche molto utile per esempio attivarsi un account paypal in america per fare gli acquisti su siti americani quindi seleziono il mio altro account desidero magari pagare darmi 20 euro o 2 euro clicco avanti a questo punto mi chiede di decidere cosa sto facendo cioè sto inviando a familiare ad amici oppure sto acquistando bene i servizi a seconda del tipo di pagamento che sto facendo paypal mi applica o meno delle tariffe in questo caso vedete io ho scelto tariffe paypal per amici e familiari e comunque lui mi ricarica perché dice che pagherò 2 euro e 0,2 quindi in realtà già trasferendo del denaro a me stesso sul mio conto americano viene applicata una tariffa di 2,2 centesimi penso sia proprio per il fatto in questo caso quando lessi accuratamente tutte le note sia proprio perché sto passando il denaro da un conto che è considerato italiano a un conto che è considerato americano perché la transazione tra peer to peer in euro tra italiano e italiano non dovrebbe avere tra amici cioè se io sto trasferendo il denaro per ritornare il denaro a quello che mi ha pagato la cena il giorno prima per dire non dovrebbe assolutamente permettere non dovrebbe diciamo introdurre nessun tipo di di tariffa di tariffa in più ok quindi questa è paypal posso nello stesso modo ricevere anche denaro posso verificare lo stato della valuta che io ho presente nel mio account posso decidere di collegare o meno conti bancari cartichetto vedete che la sicurezza di paypal è che mi mostra solo alcuni numeri quindi non tutta la carta di credito o il conto corrente quindi posso decidere di aggiungere n conto corrente e quindi la transazione è bidirezionale cioè io posso caricare il conto paypal col conto corrente e con la carta di credito e posso fare il contrario posso ritrasmettere i soldi verso il conto corrente e anche mi pare prendete come difficile dubbio ma mi pare che avvenga anche in quella direzione verso la carta di credito l'altra app e servizio che utilizzo vedete che li attivo entrambe con l'impronta digitale è Hype come vi dicevo vedete che in questo caso ho proprio qualche monetina che mi serve magari per comprarmi il caffè Hype è interessante perché mi permette anche Hype di fare invia denaro nei confronti fermo là invia denaro nei confronti di amici ok in quel caso avete visto che sta comparendo già la rubrica di amici in cui posso inviare denaro mi permette di richiedere denaro sempre ad amici e mi permette anche di pagare il negozio ecco in questo caso nel circondario io sono in sede a Pordenone in questo caso a proposito di quanto queste tecnologie non sono ancora così diffuse ma sta a noi diffonderle anche voglio dire adottandole magari anche facendo scuola presso gli esercenti in questo caso l'unico punto vendita che è in grado di ricevere pagamenti con Hype e Pordenone è la parafarmacia centrale che ci metto la cifra e posso effettuare il pagamento che è la parafarmacia di mia moglie che ovviamente io ho erudito in questo senso e quindi si è subito adoperata nel aggiungere questa opzione che è facilissimo perché lei possiede già nel punto vendita il POS si è registrata sul sito Hype for business gratuitamente ha semplicemente ricevuto un codice identificativo il sistema lei ha una geolocalizzazione infatti guardate mi dice 6 a 2 km dal punto vendita io mi trovassi nel punto vendita potrei selezionare il punto vendita digitare la cifra inviare paga e mi viene emesso immediatamente lo scontrino che vantaggio il vantaggio è che potrei anche utilizzare di fatto la la carta di credito Hype che di fatto è una carta di credito a tutti gli effetti che mi è stata spedita a casa però la praticità è quella di utilizzare lo smartphone quindi di aver dematerializzato la carta di credito in questo senso ok Bitcoin quindi a questo punto vi faccio vedere Cring Address che è il borsellino quindi l'app che utilizzo anche qui mi chiede l'importo digitale per collegarmi per accedere al mio a quanto ai 100 euro che vedete sono diventati qua giù in fondo si vede in fondo in fondo in fondo all'app sono diventati 152,54 euro da dicembre qui posso decidere anche qui ho un menu dove posso vedere le transazioni che ho effettuato inviare e ricevere denaro nell'invia denaro se io dovesse ricevere denaro vi faccio vedere prima quello cosa faccio clicco su ricevi e vado a generare cliccando su mostra codice QR adesso ci mette un attimo perché è proprio tempo macchina del 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 mio smartphone che deve generare con una certa fatica questo hash cioè questo codice univoco verificando che sia effettivamente univoco anche nella rete io utilizzo adesso posso o dare col QR code ai all'interlocutore questo codice con l'indirizzo di ricezione mio oppure chiudo e con questo codice di ricezione io posso ricevere denaro per esempio se io volessi trasferire euro da un mio conto corrente da un mio conto corrente bancario a il mio borsellino bitcoin così procedo vado sul browser e vi faccio vedere che io utilizzo questo ci sono diversi strumenti per poter fare i trasferimenti di denaro c'è anche uno strumento italiano andiamo sotto get started with bitcoin get bitcoins vedete sotto Italia c'è postebit che addirittura mi permette di operare tramite la postepay quindi posso seguendo proprio qua tutto il percorso che mi fanno fare vedete posso andare presso l'ufficio postale un punto sis e via dicendo posso trasferire trasformare il contenuto della postepay in bitcoin ovviamente dovrò fornire cosa? questo codice qua che è il codice univoco del mio questo codice qua che è il codice univoco del mio indirizzo bitcoin altrimenti posso operare tramite bonifico quindi io mi sono trovato bene con questo strumento perché poi ovviamente applicano anche loro delle commissioni perché loro guadagno mi trasformano moneta in moneta ma applicano commissioni quindi io mi sono trovato bene con questo mister coin che permette proprio di decidere il quantitativo vedete qua la montare voglio spostare 100 euro sul mio conto bitcoin non faccio l'altro che prendere questo codice adesso dovrei quando me lo fa copia e colla ma immaginatevi che ovviamente io possa fare un bel copia e colla me lo copio a manina qua ok inserisco il mio numero di telefono dello smartphone inserisco la mia email faccio buy bitcoin loro mi creano una una specie di ricevuta e mi danno gli estremi per effettuare un bonifico verso quell'interlocutore quindi io quella ricevuta loro mi dicono che quella ricevuta dura tipo 24 ore per cui associata a quell'indirizzo univoco bitcoin quindi io poi vado sul mio home banking faccio il bonifico in euro verso quell'iban che mi è stato dato da mister coin e nel giro di 48 ore mi ritrovo accreditata la cifra perché? perché lo sa il database blockchain quindi io vado a interrogare il database blockchain con quell'indirizzo lì con la mia app e mi ritrovo la somma sul mio conto corrente quindi in una somma praticamente il mio piccolo borsellino non è alto come una somma di queste chiavi crittografiche che vanno a descrivere quanto è la montare dei soldi che io ho a disposizione se mi rubano lo smartphone mi entrano nello smartphone possono assolutamente trasferire quel denaro io non potrò più risalire perché bitcoin è anonimo quindi chi entra in possesso delle mie chiavi è in grado di trasmettere il denaro bene chiedo alla regia di chiudere la demo di passare in modalità slide per per le ultime quindi un po' per dare un'occhiata anche alle domande che saranno difficilissime insomma che allora ecco sì come diceva come mi diceva prima leggevo prima c'era chi proprio chi sollevava la problematica della speculazione è vero attenzione è uno strumento che può essere sicuramente speculativo oppure è uno strumento interessante è uno strumento che come tutte le tecnologie esponenziali c'è chi dice ma già bitcoin se ne sta già parlando da un po' sì è vero però era quella fase proprio embrionale nella fase di esplosione se ci siamo dentro possiamo sicuramente avere dei benefici non ultimo per esempio studiare bene cosa significa fare il mining cioè andare a mettere a disposizione i propri computer nella rete blockchain che va a validare le varie transazioni perché validare le varie transazioni significa avere la necessità e disporre di importante capacità computazionale e sapete che c'è la possibilità di sommare capacità computazionale di più computer per creare praticamente un super computer questo è proprio uno dei benefici che dà la rete e quindi blockchain fa proprio questo se io desidero metto a disposizione il mio computer il fatto che il mio computer faccia parte di una rete che è in grado di validare le transazioni e il fatto che appunto giustamente ogni transazione abbia un costo minimo perché se paragonato ai costi delle transazioni bancarie tradizionali è un costo minimo ma quel costo poi viene distribuito tra chi ha operato la verifica della transazione quindi oggi fare il mining permette di guadagnare non tanto come all'inizio perché chi è iniziato a fare il mining all'inizio quando c'erano poche transazioni e c'erano pochi computer guadagnavano molto di più però insomma ci sono alcune letture interessanti che dimostrano come magari investendo in una macchina dedicata solo a quello specializzata per su Amazon addirittura si trovano se fate delle ricerche troverete su Amazon dei computer che sono con un hardware apposito pensato per fare il mining bitcoin e in quel caso il guadagno diventa essere interessante fate un po' di conti l'investimento del computer in quanto tempo ve lo pagate può essere un'idea il costo delle tasse e diciamo che anche 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 con con paypal c'è il rischio di non pagare tasse cioè voglio dire io per esempio con perché c'è un utente che chiede se investendo bitcoin non pago tasse visto che è anonimo nì nel senso che comunque è una transazione che in qualche modo è tracciata perché io ho fatto un bonifico per trasformare da euro a bitcoin io comunque ho fatto un bonifico presso un gestore un trasformatore di valuta per cui il fisco potrebbe comunque chiedermi con chiarità di me scusa un attimo ma quella transazione è là perché l'hai fatta se mai dovesse applicare lo spesometro al mio conto corrente ok così vale anche per paypal io ho ricevuto dei pagamenti su paypal seppur minimi per delle collaborazioni che ho fatto magari con aziende internazionali e comunque ho preferito anche se le cifre erano minime perché erano più diciamo quasi dei pagamenti di come si dice di rimborso spese ho preferito comunque emettere il documento all'azienda americana non interessava ricevere il documento ma io l'ho emesso e me lo tengo disponibile dal commercialista perché guai o mai le dico guarda comunque ho ricevuto del denaro anche se tutto sommato paypal no non rientra proprio nel nel circuito dello spesometro vero e proprio la recente deve avere un post mobile per hype oppure anche no basta un post banca sella cioè un post e tipicamente i post in genico sono forniti proprio da banca sella quindi con un post normale non serve la tecnologia del post che sia mobile o che sia collegato alla alla rete del proprio punto vendita non c'entra c'entra il servizio che ricevo in quel caso da banca sella posso ovviamente anche ritrasferire sì posso trasferire anche il trasferire il denaro da bitcoin ad euro non è così semplice non ve l'ho dimostrato oggi perché richiede un attimino un po' anche di scelta opportuna del è più facile in realtà trasferire da euro a bitcoin che viceversa però diciamo che si fa si fa anche questo vi invito a googlare per trovare il modo migliore soprattutto i sistemi che sono meglio recensiti in questo senso se cambio smartphone come faccio la trasferire sì in realtà se cambio smartphone posso trasferire il denaro perché trasferisco la chiave cioè devo quantomeno mantenere la chiave allora è così il denaro bitcoin corrisponde alla chiave se io la chiave anche la tengo su un foglio di carta quello è denaro bitcoin che corrisponde al portatore quindi io nel momento in cui lo replico anche in un altro smartphone e da lì poi faccio l'operazione però di spostamento a questo punto tutto il database distribuito blockchain sa che quel denaro è stato trasferito quindi nel smartphone precedente non posso più utilizzarlo ok è un po' un concetto è come se cioè è un'univocità però però ubiqua è una cosa un po' un po' particolare blockchain ma è proprio il concetto è la forza di blockchain ci sono rischi di qualche tipo nel fare da certificatore no no assolutamente no io ne ho letto parecchio e ho anche un po' giocato come come miner no quindi come chi va a a a a a a a no si dice a a diciamo nella non mi viene il termine insomma a recuperare il miniera ecco perché il termine è richiama appunto il lavoro del minatore ok ho fatto il minatore quindi ho recuperato dalla miniera i bitcoin non c'è nessun tipo di rischio perché in realtà è il tuo computer che viene messo a disposizione di questa mega rete chiamiamola rete neurale digitale e distribuita per cui il tuo computer sta facendo semplicemente conti cioè risolve problemi matematici non sai assolutamente che tipo di transazione stai stai verificando cioè non sai non entri nella semantica della transazione semplicemente il tuo computer serve per generare chiavi criptografiche sempre più lunghe sempre più più importanti che modi bitcoin è anonimo? eh no eh sì io l'ho acquistato però poi di fatto è il passaggio di mano che non è non è certificato perché la chiave nel momento in cui cioè io l'ho acquistato verso verso mister mister coin ma loro a loro volta hanno trasferito quel denaro poi l'hanno trasformato in bitcoin e loro hanno poi spostato bitcoin dal loro conto a un conto anonimo è chiaro che se io poi io li trasferisco in bitcoin si presume che io abbia bitcoin da qualche parte ma non si sa dove perché è questa chiave criptografica che non si sa dov'è e non si sa qual'è no quindi si presuppone che io abbia trasformato in bitcoin da qualche parte ma eh non si sa poi che fine questi bitcoin hanno fatto quindi l'anonimato sta proprio in questo che la chiave criptografica che descrive la montare del mio denaro non è direttamente collegata al bonifico che ho fatto inizialmente per ottenere quella montare di denaro per cui quando la utilizzerò per fare un acquisto non è direttamente collegata a me non c'è scritto il nome Gianpiero Riva su quella chiave che descrive la montare di denaro che ho ok è come denaro al portatore cioè io do 100 euro a un per il mano a un interlocutore così se ne vanno ciao cioè non è più tracciabile bene ho sforato più del dovuto ma spero che sia stata un'interlocuzione interessante cose sicuramente come vi dicevo proposte magari un po' più base cose un po' più più approfondite spero di avervi dato degli stimoli anche per approfondire molto bene direi che vi saluto grazie per essere intervenuti e ci vediamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti